Allora, siamo dentro un'aula scolastica e attualmente da qualche minuto stiamo monitorando la concentrazione di ipa, che sono delle sostanze cancerogene. Attualmente la media oscilla tra gli 11 e i 12 nanogrammi a metro cubo. I valori vengono dati ogni 5 secondi da questo che è un analizzatore portatile di drogherbuli policiclici aromatici e faremo un esperimento per vedere in questa aula che cosa succede quando una persona incomincia a fumare. Siamo intorno ai 15 nanogrammi a metro cubo. E' arrivato ai 20, 17, 15, 48, 65, 82, 91, 99, 119, 39, 35, 35, 32, possiamo dire che adesso la concentrazione è doppia rispetto al livello di partenza, 35, 35 è la concentrazione di ipa al tubo di scappamento della mia automobile, 37, ci fermiamo qui. Grazie a tutti.